Allora ora stiamo a cantare e volevo farvelo ascoltare in una canzone scritta da lui, il testo è Momenti E si trova sale Ci sono dei momenti che ti viene voglia di cancellare amici e conoscenti Ma non si può, ma non si può Quando scopri di non essere apprezzato di quello che sei Giocandoti la tua libertà Frequentando persone che non sono come te Non sono come te Tutto quello che fai Non serve a niente Tutto quello che fai E come niente Bruciando la tua gioventù Rinunciando la tua avvenire Ma come puoi Ma come puoi Ma come puoi Se gli occhi Se gli occhi bruci il cielo e poi Ricomincia davvero La vita prima o poi Ti sorriderà Perché un uomo come te A testata camminerà A testata camminerà E un destino più vele E un destino più vele Nella vita mia Nella vita mia E poi vedrà E poi vedrai E poi vedrai E poi vedrai E poi vedrai Tutto quello che fai non serve niente, tutto quello che fai è come niente, bruciando la tua gioventù. Rilucia tua tua amigure, ma come tuoi, ma come tuoi, ma come tuoi. Allora, vorresti non ti allontanare, dobbiamo chiamare Padre Giuseppe. E allora, siamo alla conclusione della serata e vorrei chiamare sul palco il nostro parroco Padre Giuseppe. Un applauso a Padre Giuseppe! Grazie!